Che poi sono? Come posso invocare gli spiriti buoni? Commento. Gli spiriti buoni, che poi sono coscienze più ampie della tua, li puoi invocare con la preghiera che, se è tale, è invocazione. L'invocazione deve essere adeguata all'ampiezza del pregato. Perché possa essere adeguata, la preghiera deve essere tenace e quotidiana.